Ciao ragazzi, ben tornati in questo nuovo video, io sono DedeelTV e sono tornati in questo nuovo video Come potete sapere oggi è sabato, poi è sabato sì, ok, e oggi volevo fare una cosa, visto che non sapevo niente da fare Facciamo questa cosa bella, molto bella. Allora, oggi è il successo che mi sono Quindici anni, quattordici, e mi è successo due volte in questa settimana, due volte Di, se vi è successo anche voi, di che è successo, che quando vi sto svezzo per andare alla scuola Mi è successo che diventa una giornata fantastica, è andata una giornata di inverno Prima, è successo mercoledì, è successo bene, molto bene, così tutto a posto, tutto a posto Ad un certo punto mi arriva questo, e l'interrogazione sorpresa Forca puta, meno male che non mi ha beccato, però minchia, un po' l'ansia mi è muto E questo è stato un po' dell'ansia scocciato Poi mi è successo che sia su tutte queste cose qua, tutte queste cose qua, va bene E poi, da giornata bella a giornata brutta, è diventata... Ha successo anche lunedì, vedete, è una giornata fantastica Stiamo facendo una partita, noi abbiamo visto che siamo a scuola, no? Facciamo un torneo, no? Le prime fanno palla a mano, seconda palla a canestro e la terza fanno palla a volo Le terze, io sono in terza, e praticamente mi è successo questo Che stavamo facendo la partita di palla a volo, visto che tutti avevano la ginnastica Beh, chi non aveva ginnastica? Tutti favano una palla a volo, così, no? Facciamo un palla a volo Ad un certo punto mi è successo che abbiamo perso la partita, tutti incazzati, eh, lo si può neanche parlare che l'hanno tutti incazzati Sai cosa un po' mi dico incazzati, incazzati Però, bene, dai, allora, poi mi è successo tutto questo Domani c'è la partita, ragazzi, per favore, speriamo di vincere Io gioco a calcio, quindi, intanto, io domani c'è la partita Oggi, sabato, è già tanto, sono contento perché tanto si può dormire ancora tardi stanotte E, niente, questo qua era il video E se vi è piaciuto mettete un bel commento Tanto, vabbè, se c'è tanto sapete cosa volevo dire Se non siete iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video